ciao se sei alla ricerca di un'idea originale per decorare la tua tavola di pasqua questi segnaposto floreali sicuramente ti piaceranno tanto recupera dei gusci d'uovo pulisci bene e anche della carta crespa sia verde che colorata ritaglia una fascia di carta colorata lunga 50 centimetri e alta 7 centimetri piega la metà così come vedi nel video modella la carta facendo attenzione ecco non strapparla avvolgi la striscia di carta su se stessa ben stretta e otterrai una bellissima rosa di carta crespa aggiungi un po di colla a caldo alle estremità del fiore ritaglia adesso una striscia di carta verde di carta crespa verde lunga 15 centimetri e alta 5 centimetri e ritagliala modella tutte le puntine di carta con l'aiuto delle forbici e con un po di colla a caldo inserisci la striscia verde all'interno del guscio facendo molta attenzione a non romperlo taglia adesso una striscia di filo di cotone oppure di spago molto sottile e incolla le due estremità all'interno del guscio d'uovo adesso dovrai inserire all'interno solo il fiore di carta con un pizzico di colla a caldo ecco adesso arriva la parte un po più difficile dovrai disegnare con la matita ti consiglio prima occhi naso e bocca e poi ricalcare con un pennarello con la punta sottile indelebile di colore nero e fai molta attenzione quando disegni dovrai essere molto precisa per avere un ottimo risultato ti consiglio di utilizzare vari colori di carta crespa il risultato finale sarà meraviglioso vedrai provaci anche tu